Oggi vi spiego come ottenere una voce da così a così Buon tutorial Ok ragazzi benvenuti a tutti in questo nuovo video Oggi vi spiego come avete già sentito l'audio iniziale Come ottenere questa voce In live diciamo su OBS Quindi mentre registrate o quando fate una live E basta Quindi niente ragazzi adesso vi spiego Allora su OBS i settaggi sono questi ragazzi Dovete andare in questa rotellina qua accanto a Mick Aux Lì lo vedete sotto il 00db Poi andare su filtri E inserire tutte queste cose Che ho io Se volete ottenere questa qualità audio Quindi come si fa ragazzi Cliccate Premete Cliccate Vabbè è uguale ragazzi dai In basso a sinistra nel più E aggiungete un compressore Nel primo compressore mettete questi settaggi qua Ok dopo aver settato il primo compressore Settate pure una soppressione rumore Quindi sempre più E sto telefono E sto telefono non mi fanno registrare Soppressione rumore E me Adesso Gli uccido Ok Ragazzi scusate Soppressione rumore E mettete Meno 40 Poi Un'altra volta Noise gate Quindi sempre più Noise gate E mettete questi settaggi qua Ok Per ultima cosa Un altro compressore Con questi settaggi qua Oh no basta Oggi proprio non si può fare Allora Basta Quindi Ragazzi Aggiungete un altro Compressore E porca puttana No raga E' impossibile Registare oggi Ok ragazzi Alla fine dovete aggiungere L'ultimo compressore Quindi Aggiungete un altro compressore Sempre più E Compressore E mettete questi settaggi qua Ok Dopo aver fatto tutto ragazzi Ottenete Questa Qualità Audio E niente Se il tutorial vi è piaciuto Lasciate un bellissimo like Se non vi è piaciuto Lasciatelo lo stesso Tanto Non cambia niente E niente ragazzi Ci becchiamo Nel prossimo video Bella a tutti